la festa di tutti i santi ascoltiamo il passo del beatitudini secondo l'evangelista matteo cosa sono le beatitudini cosa significa essere beato e perché le beatitudini possono esprimere in sintesi la vita dei santi le beatitudini non sono una serie di precetti morali che cristo aggiunto al decalogo con cui si dice cosa bisogna essere o cosa si deve fare similmente pensare i santi come coloro che hanno esercitato le virtù in maniera eroica che siano riusciti in una sorta di impresa titanica è fuorviante piuttosto l'etimologia della parola greca beatitudini macar suggerisce l'idea della pacificazione del cuore agitato senza entrare troppo nel dettaglio delle temologie della parola possiamo dire che la parte più sincera dell'uomo dove risiede il suo io autentico è il luogo al tempo stesso dell'amore e delle passioni qui è il desiderio dell'uomo di soddisfare e riempire definitivamente il suo io e questa ricerca lo strugge lo divide perché mai realizzabile in questo mondo e tale incompletezza lo rende infelice è l'inquieto un cor di cui parla sant'agostino bene la beatitudine e la cessazione di questo struggimento l'eterna quiete quale conseguenza dell'illuminazione dell'anima dice un santo martire ortodosso paul flarenschi detto in altre parole non ti rode più i santi hanno conosciuto sono stati raggiunti dall'unica cosa che dà pienezza al cuore dell'uomo che è l'amore divino la vita della trinità dice infatti san giovanni paolo secondo l'uomo è chiamato una pienezza che va ben oltre le dimensioni della sua esistenza terrena poiché consiste nella partecipazione alla vita stessa di dio tanto è vero che la prima e l'ultima beatitudine a differenza delle altre che sono al futuro sono al presente e interessano entrambe il regno dei cieli beati poveri in spirito perché di essi è regno dei cieli beati perseguitati per la giustizia perché di essi è regno dei cieli ci fermiamo su queste due beatitudini chi sono i poveri in spirito poveri tocoi sono i mendicanti i miseri incapaci di provvedere alle proprie necessità non possono che attendere e sperare da altri la salvezza e sostentamento per la propria vita così i poveri in spirito sono coloro che nella vita di fede nel cammino spirituale riconoscono finalmente la propria indigenza e non hanno nulla su cui fare affidamento del proprio io per accampare crediti davanti a dio né meriti e opere religiose che possono fargli da garanzia per piegare la benevolenza divina perciò i poveri in spirito possono accogliere e fare esperienza dell'amore gratuito di dio come i bambini che non possono far altro che accogliere ciò che gli è donato infatti a chi è come loro appartiene il regno dei cieli matteo 19 14 e questa ad esempio la piccola via di santa teresa di lisie che diceva che senza la grazia sarebbe stata la più grande peccatrice al mondo tale esperienza dell'amore di dio e la venuta del regno dei cieli già qui sulla terra un assaggio della vita eterna è proprio dello spirito santo infatti dare una caparra del regno futuro riversare l'abbondanza i doni celesti nel cuore dei credenti questa prima beatitudine è l'inizio della vita battesimale è il principio del cammino di santità perché la santità di dio che viene a noi per questi santi hanno desiderato ardentemente la venuta del regno va si pensare a san pio che avendo sperimentato la dolcezza dei beni futuri desiderava la morte e talvolta chiedeva ad altri di pregare perché morisse per godere pienamente finalmente di questi beni i gusti nuovi messi dallo spirito non sono paragonabili a quelli offerti dal mondo l'ultima beatitudine come detto ha anch'essa come oggetto il regno già presente sono i perseguitati per la giustizia la giustizia non è l'esecuzione perfetta dei dettami della legge giustizia una parola che risponde spesso nel vangelo di matteo a che fare con il regno se la vostra giustizia non supererà quella di scribi e farisei non enterrete nel regno matteo 5 20 san giuseppe bene definito giusto non perché ha osservato la legge alla lettera altrimenti avrebbe dovuto far lapidare maria ma perché vive e sceglie nello spirito santo perciò da precedenza alla relazione al vero bene per l'altro la giustizia in poche parole e la giusta relazione con dio ristabilita dal mistero pasquale di cristo la giustizia perciò non è questione di opere della legge bensì è manifestazione della vita dello spirito ma come mai proprio questi sono perseguitati e nonostante le persecuzioni canugne insulti cristo li chiama beati il motivo della persecuzione è proprio l'essere in cristo e la novità dello spirito che rende liberi il mondo ama ciò che è suo che segue la sua mentalità ma quanto non è solo odia perché mostra già qui su questa terra la vita che di un altro mondo chi dà la precedenza alla vita del regno diviene libero da se stesso è libero nell'amore e questo il mondo non lo può fare né tantomeno può darlo uno sforzo religioso e moralistico pertanto chi vive dal regno è invidiato e odiato da quanti sono prigionieri del proprio io che ancora si struggono perché non hanno conosciuto o hanno dimenticato la vera beatitudine chi non ha in sé l'amore di dio aspira la gloria di questo mondo e non pacificati si va in cerca di riconoscimenti si vuole per sé divenendo schiavi delle vanità del mondo e questo non vale solo per la mondanità ma anche e forse soprattutto per una mentalità religiosa in galetti 4 29 san paolo dice che quelli generati secondo lo spirito cioè resi giusti dal sangue dell'agnello sono perseguitati da quelli che vivono secondo la carne cioè da quelli che vogliono affermare se stessi anche religiosamente con tutto un apparato di prescrizione insegnamenti umani che hanno parvenza di sapienza ma sono di una fede falsa e di una falsa umiltà colossesi 2 20 21 la storia stessa attesta come molti santi nel corso dei secoli hanno subito persecuzioni da individui e istituzioni religiose i beati perseguitati per la giustizia proprio perché resi liberi interiormente hanno la forza di sopportare il male subito poiché ritengono più autentico e fondamentale l'essere in cristo rimanere in lui che siede alla destra del padre gli escata cioè i beni eterni che lo spirito ci anticipa nel presente sono stati il motivo la forza per esistere e mantenersi in piedi nelle persecuzioni come afferma santisacco il siro nulla libera di più dalle preoccupazioni di questo mondo se non la speranza dei beni eterni oppure san giovanni crisostomo nelle lodie a san paolo dice che l'apostolo delle genti viveva in prigione come il cielo stesso accoglieva ferite e stafilate più volentieri di coloro che ricevano premi le sofferenze del tempo presente non sono paragonaboli alla gloria futura che dovrà essere manifestate noi romani 8 18 la festa di tutti i santi e anche la festa di tutti i battezzati i nostri amici che già ci precedono nel regno ci invitano a custodire le perle preziose ta escata i doni e la vita che lo spirito continuamente riversa nel nostro cuore affinché siamo protesi e beni futuri ora nascosti in cristo in attesa di apparire con lui nella gloria colossesi 3 4 pregava santa elisabetta della trinità mie tre mio tutto beatitudine mia solitudine infinita immensità nella quale mi perdo io mi abbandono a voi come preda seppellitevi in me perché io mi seppellisca in voi in attesa di venire a contemplare nella vostra luce l'abisso delle vostre grandezze grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti